Abbiamo voluto dare un segnale alle agenzie di viaggio, a queste imprese della filiera turistica, non hanno lavorato per mesi, ora sono aperte ma naturalmente le difficoltà di ripartenza sono enormi con un contributo, un bando da 1.300.000 euro che consentirà alle agenzie di viaggio della nostra regione di avere contributi variabili fra i 1.000 e i 3.000 euro che certamente non risolverà tutti i loro problemi ma rappresenta un segnale concreto di come la regione Emilia-Romagna vuole stare vicino anche a queste piccole imprese. Naturalmente contiamo anche in futuro di poter sostenere questo genere di attività anche con delle campagne promozionali adeguate che soprattutto aumentino la voglia da parte di portatori di interesse di rivolgersi alle nostre agenzie di viaggio per poter programmare i propri viaggi in Emilia-Romagna.